Tupay è un nuovo sistema di pagamento che utilizza una piattaforma privata, privativa e come strumento tecnologico utilizza gli smartphone o i tablet favorisce quindi il trasferimento di denaro tra soggetti diversi attraverso strumenti mobili il vantaggio principale è l'istantaneità del pagamento la semplicità dell'utilizzo e la possibilità di eseguire pagamenti in situazioni diverse con presenza fisica, da remoto oppure chiedere o ricevere denaro L'app che in un mese ha già raccolto oltre 2500 clienti registrati ha l'ambizione di diventare il contante del futuro in un ecosistema, sottolinea il co-founder Daniele Bernardi che dà vantaggi concreti all'esercente e all'utente finale Come lo facciamo? Chiedendo uno sconto che serve a fidelizzare e anche a fare marketing al merchant, all'esercente affinché noi possiamo portare la nostra comunità a comprare da lui in cambio di questo sconto noi possiamo andare dall'utente finale e dire caro utente ti paghiamo per fare la spesa con noi quindi sostanzialmente trasformiamo i costi inutili che ci sono oggi per il mero trasferimento del denaro con altri sistemi di pagamento in costi utili per dare vantaggi concreti all'esercente e dare vantaggi concreti all'utilizzatore finale All'è qua!